Please approach SCP-173 for testing Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Dropbox Tycoon Oggi vi mostro la mappa Waterpark Tycoon Mappa realizzata da Playscape Ok questa è la struttura E qua abbiamo i bagni Cioè i bagni ne volevo dire le docce scusate Qua tipo zona tipo bar Una specie tipo di zona bar Qua tipo un minigioco Di qua poi si va nei scivoli Quelli da prendere poi in acqua Ve li mostrerò pian piano tutti e li proveremo tutti Se riesco a salire però Allora Deve iniziare con questo Deve iniziare con questo Grazie a tutti Grazie a tutti Che adesso vi mostro questo E abbiamo poi questo Ok qua poi abbiamo Un'altra zona Sembra Mi gioco con l'acqua Qua abbiamo tipo dei miei giochi per la zona per i bambini Poi abbiamo da questa parte i bagni Altri Diciamo Diciamo minigiochi per i bambini Ma fa comunque abbastanza dettagliata Rispetto ad altre che vedrete Nei prossimi video Grazie a tutti Qua c'è una zona di hamburger Grazie a tutti Qua c'è un piccolo magazzino E poi infine qua ci sono dei cilie Sì Da vedete che ci sono altri pulsanti Però Come detto Quello Si fa con il re-bit Purtroppo Ma questo quanto pare non funziona Va bene Torniamo fuori Per fare questa mappa ci impiegherete all'incirca 10 ore Massimo massimo 15 ore Non di più Ok Se il video vi è piaciuto vi invito al show mi piace Noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao